ciao a tutti ragazzi buongiorno e benvenuti in questo nuovo tutorial in questo video vi farò vedere come resettare la spia del service di una peugeot 208 questo modello in particolare del 2015 ma quando vi farò vedere il quadro strumenti che è questo qua questo cioè se avete questo anche se la vostra peggio non è una 208 ma è il medesimo quadro le manovre sono le stesse sono le manovre semplicissime vi ricordo sempre che questa manovra va fatta nel caso in cui si sia accesa la spia il messaggio service è la chiavetta di manutenzione voi abbiate già fatto il tagliando abbiate fatto già il rabò col controllo livelli altrimenti non ha senso spegnerla perché è sempre pericoloso però adesso vi faccio vedere come si fa la manovra e poi e poi lo vedete adesso per resettare questa spia che si vede anche se io ho il quadro spento non dobbiamo fare altro che operare su questo tastino con la chiave che è il tastino di settaggio cosa dobbiamo fare prendiamo la nostra chiave teniamo cliccato il tasto set andiamo a inserire la chiave e facciamo il primo giro di quadro e vedete che la macchina inizia a fare un conto alla rovescia questo conto alla rovescia permette di resettare il chilometraggio del tagliando del veicolo adesso abbiamo messo zero ed ecco qua la spia è stata resettata vedete non c'è più niente qua e non c'è neanche la chiavetta perché è tornato alle impostazioni di fabbrica ossia per questo veicolo dovrebbero essere 20.000 chilometri quindi come abbiamo visto manovra semplicissima ma che comunque va fatta nel momento in cui è stato fatto il tagliando o un controllo livelli altrimenti non fatela mai perché può essere molto pericoloso può essere molto pericoloso naturalmente per il motore dell'auto perché il cambio d'olio e italiani regolari sono il sistema che fa funzionare bene la vostra auto se resettate la spia però siete senza olio fate un bel danno come sempre se vi è piaciuto il video mettete un bel pollicino in su seguite il mio canale perché caricherò sempre nuovi video per oggi è tutto alla prossima ciao